Ed ora parliamo di cinema a Sciacca, nell'Agrigentino, in corso il Film Festival, ovvero cinema d'autore, fra retrospettive, opere prime ed ospiti d'onore. Il nostro inviato è Alfredo Conti. Il film Burning in un'ora e mezza racconta la storia di diversi profughi siriani che sfuggono da una situazione di guerra e di miseria. Gatafan Ghanou, firma siriana di Burning, uno dei film in lingua originale presentati al Festival del Cinema di Sciacca. La cinepresa entra senza filtri nelle tragedie del mondo arabo e le trasferisce sul grande schermo. Cultura che non si arrende alla violenza dell'integralismo. Film e anche documentari che mostrano l'attualità di oggi, come vivono, come per esempio un popolo che ha perso pure il loro caso, ha perso anche la dignità, è un po' toccante. Cento le pellicole presentate in questa ottava edizione del concorso, dedicato ai documentari e ai cortometraggi, molti firmati da giovani registi siciliani. Anche una sezione dedicata agli stand movie. Un'ottava edizione che è nata all'inizio con l'incertezza delle risorse, e questo è un tema un po' un luogo comune. In realtà poi l'abbiamo sviluppata come un'ottava edizione piena di contenuti. Questo era quello che ci interessava, poca passarella e molto lavoro fatto soprattutto da giovani registi con opere prime, soprattutto attraverso l'instant movie che abbiamo creato, quindi girare in 72 ore un lavoro sulla nostra città. Stasera la cerimonia di premiazione.